Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi puliremo il camion di Mattia, che se siete già iscritti da un bel po' saprete che gliel'ha portato Babbo Natale l'anno scorso. E se non siete iscritti? Sì, in realtà due anni. E se non siete iscritti, iscrivetevi. Sì, in realtà due anni. 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 Sì, in realtà due anni.